Eh vabbè ma ho circondato, ma faccio scappà Ma che missione stai facendo? No, sto scappato dalla cura Cos'è stai facendo le prove per quanto ti beccheranno con la droga? Eh vabbè ma dai Come provate a trovarmi? Ma sono scappato brutto da loro e mi hanno trovato a cazzo Non capisco di cazzo su un poste di culo Eh ovviamente l'elicottero mi viene a cagar cazzo Ti do un consiglio, gli elicotteri colpirci il rotore di coda che cadono Terzato della vita! Oh non potevo! Vabbè come l'elicottero non per cazzo mi bugherò Oh SC Sì Dovrei abbassare la scocatura No 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 Per me non viene un piccolo Ma che la missione c'è la mettono con un fasteglio per questa scocatura Eh allora la faccia C'è lì 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 No 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 Dai non c'è l'elicottero Ma la scocatura è vero eh Ho finito Head Rush Puttana la vergine Maledetta Daggeee Eh vaffanculo va Vediamo quanti a tempo va 225 va boda A presto